Sono qui, io sono lo spesso e assieme a me c'è Lanz Ciao a tutti Oggi andiamo a dare un occhio prima dell'inizio della partita che dovrebbe essere intorno alle 4 alle squadre che giocano Adesso dammi un secondo perché quasi quasi vado a condividere il link sui vari social per ricordare a tutti che inizia la partita Se nel frattempo vuoi iniziare Dai da Kanda Forever di Martin Septim Io farei un piccolo recap dall'alto verso il basso così ci teniamo le sorprese alla fine dei giocatori di Martin Va bene Benissimo Allora vediamo subito questa squadra Team Value 1970 quindi piuttosto alto consideriamo che chiaramente essendo una squadra di voodys di alto livello ha dei linemen più o meno poco skillati perché il trucco sta proprio nel tenere dei linemen quasi base mettendo giusto delle skill chiave quali guardia e kick come ha fatto Martin con qualcuno dei suoi pezzi ad esempio Vukabi che è il kicker e Ramon e Dylian che sono i due linemen guard uno dei quali anche con contrasto questo fa in modo di tenere il Team Value dei linemen abbastanza basso per potersi scatenare sui vari sui vari pezzi specifici pezzi come dire più fondamentali per la strategia di squadra quali i wardancer i catcher e eventualmente il treman nel caso di di Martin c'è un treman discretamente skillato con guard e grab sempre molto utili soprattutto per muovere in giro la linea scrimmage avversaria vediamo che ha un wardancer quasi base con solo sidestep come skill mentre un altro il suo sucker direi T'Chaka ha il classico set da wardancer sucker ovvero three ball take all sidestep per ovviamente aggirare meglio i vari blocchi che subirà e addirittura il jump up che lo rende un noto di movimento sempre sempre attivo sul campo anche nel caso in cui dovesse essere messo giù ed è così confident con se stesso che ha pure una benda sugli occhi e lo fa ad occhi bendati esattamente che stavo guardando adesso l'immagine di questi maledetti wardancer poi abbiamo una bella triplet di catcher diversi l'uno dall'altro ma ma nei limiti ecco e tutti sono due su tre sono blodger mentre il terzo è la cosa più vicina ad un one turner che Martin è riuscito a tirar su un movimento 9 agilità 5 sprint e sidestep e balzo come ultima skill ha preso balzo che chiaramente con agilità 5 ha scelto di avere un un balzatore duo o più che ovviamente può fare la differenza e uno di questi catcher ha presa sicura quindi lo potremo vedere probabilmente come ball carrier prima dell'eventuale sprint verso la meta quindi una squadra direi abbastanza ben strutturata 3 re-roll apotecario fan factor 10 che non gioca molto a suo favore in quanto incide anche quello sul team value ma sapete vincendo tante partite il fan factor tende sempre a salire molto bene 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 allora io direi andiamo a cercare invece c'è la squadra di rick scusa di wild sì ti va di commentare un attimo tu qui la squadra dei necro di wild no ma stavi andando bene molto molto bene l'unica cosa che posso vedere è che per fortuna il flash golem ha avuto una un infortunio all'agilità quindi la cosa non mi pare l'abbia impensierito per il resto lo lascio a te il commento tra l'altro tra l'altro un flash golem completamente base a due spp dalla prima skill sicuramente lo avrà tenuto in in funzione dei playoff in quanto comunque si tratta ormai di al massimo quattro partite e un pezzo in più in panchina o comunque in campo a tenere la linea per quanto meno mato è comunque un forza 4 stand firm con tic scale e regeneration quindi veramente veramente difficile da rimuovere dal campo quella non l'ha regenerata però quella no però gli è andata bene perché alla fine l'agilità è la cosa che preme meno ai flash golem ne ha messo la rotola di uno zombie sì probabilmente sì come dire sarà un po' instabile sulle ginocchia e niente poi l'altro flash golem è invece diciamo molto più serio ha un spp dalla skill già block guard quindi è molto importante due white simile fotocopia uno dei due ha take all in più rispetto all'altro ma entrambi possono far conto su guard e mighty blow più il loro block di base quindi sono già due ottimi pezzi blitzer e invece ottimi eccezionali i lupi mannari entrambi uno con forza 4 ragazzi uno con forza 4 blodger forza 4 take all e mighty blow più chiaramente il il basico close quindi è un mostro assettato di sangue che contro il modello serve giusto contro l'uomo albero perché poi alla fine gli altri meno male stanno abbastanza bassi sì però potrebbe servire molto in quanto da 10 a 7 la differenza si sente uno dei due è probabilmente il ball carrier gloomar snarl probabilmente sarà il suo ball carrier in quanto blodger e forza 4 mentre yorkusk ulzi ah un altro blodger scusate ho visto male sono entrambi blodger ma yorkusk a differenza di gloomar ha invece di forza 4 ha piling on piling on skill fondamentale per rimuovere per fare rimozioni facili quindi lo vedremo in azione spesso in quel senso credo ah sì se non lo tirano fuori in qualche modo sicuramente andrà a massaggiare le schiene degli arquisilvani più leggeri ovviamente esattamente i war dancer possibilmente visto che il take o la juta e e e poi vediamo in realtà una sorprendente qualità anche negli zombie almeno due due blocker zombie un resto zombie con dirty player quindi tra l'altro bartham arme de feu dirty player wrestle regeneration non vedevamo queste statistiche dei tempi della guerra quando uno zombie ti rincorreva ti buttava giù e iniziava a mangiarti giustamente esatto lui ha tutte queste caratteristiche si è un po' uno zombie old hammer se vogliamo esatto old school zombie però funziona come si leggeva nei libri prenafol esattamente e poi una triplet di zombie base saranno esattamente e probabilmente la line of scrimmage dei turni di difesa di di wild e due interessanti goal uno più dell'altro uno è un blogger uno è un blogger classico semplice con il giusto gli spp per la prima skill il primo invece grave splitter grave splitter è un blogger sidestepper con presa sicura quindi diciamo il probabile ball carrier in situazioni di sicurezza che andrà a sostituire il gloomar snarley il werewolf forza 4 nel caso in cui la sua presenza sia utile altrove ma mi ricorda molto lo scaven di rick che avevamo visto skillare alla quale aveva dato sidestep per i ball carrier questa abilità è veramente utile perché alla fine sia che vengano buttate giù ma nella più probabile ipotesi in cui vengono solo spinti si portano in posizioni a parte che non escono dal campo possibilmente se uno non ha qualche altra abilità di contrasto come forse juggernaut non mi ricordo ora juggernaut o no grab no è grab solo grab juggernaut annulla stand firm e il blocco spinge e il resto sono quelle tre lì no ci vuole grab per sidestep ma è comunque una skill poco vista al di fuori di trimene big guys grab se non mi ricordo male ce l'ha però ma ce l'ha sul trim si beh sul trim non lo mi faccio non che questo goal starà ben distante da quel tronco se muove difficilmente vedremo se il trim blizzare sulla fascia per spingere a breve splitter fuori ma non si sa mai ah guarda non so se con bloodball 3 usciranno fuori i trimene del caos in grado di andare a prendere come una frusta i giocatori a 3 di distanza e portarseli vicino sarebbe bello ma sarebbero immagino che sia peggio di un death roller quindi con le liane di nargo esatto non credo che vedranno mai il campo chi lo sa poi dopo il gioco di continuo mutamento infatti vedremo sarebbe una bella sorpresa allora invece per quanto riguarda che io sono uscito ma in realtà fanfactor fanfactor 12 ancora più alto si 3 re-roll esattamente uguale alla squadra di Martin ha una banca leggermente più alta abbiamo visto che Martin aveva 100k da parte lui ne ha 150 potrebbero decidere entrambi di anche se la differenza di team value è solo di 60 a favore di Martin quindi più alta per Martin potrebbero decidere entrambi di sniccare in qualche altro inducement con la loro banca anche se c'è sempre da pensare alle eventuali semifinali agli eventuali quarti di finale semifinali eccetera eccetera quindi certo non ho visto quanto aveva Martin aveva 100k ah wild a 150k forse una no no blood laser baby le possono usare tutti giusto dal KO si riprende chiunque con la birra di Bugman certo certo sì tra l'altro il team value più alto parlerà per primo quindi diciamo che la scelta di Martin probabilmente non ricadrà sugli inducement in quanto aggiungerebbe ancora più inducement gratuiti al suo avversario mentre mentre Wild ha la possibilità di sfruttare i 60k che gli verranno attribuiti più 150k di banca e potrebbe intanto salutiamo Massimo Mattita che è venuto a trovarci sta guardando la diretta brevemente Massimo dato che ho capito che tu sei un giocatore che ha appena cominciato a giocare a Blood Bowl 2 anche se sei un giocatore veterano da tavolo stiamo parlando dato che siamo nei ottavi di finale dicevamo sì giusto ottavi di finale l'utilizzo di qualche inducement dato che il team value delle due squadre è praticamente lo stesso se qualcuno mette qualcosa per comprare qualcos'altro è possibile che lo faccia anche l'avversario per esempio se i Wood Elf pensano che andranno spesso e volentieri con tutti questi Mighty Blow eccetera eccetera KO potrebbero pensare di prendere una Blood Laser Baby allora a questo punto Wild potrebbe pensare di prendere una Blood Laser Baby e via così utilizzando però i soldi dato che sono praticamente al stesso livello andrebbero a utilizzare i soldi della tesoreria i soldi della tesoreria ovviamente vanno anche tenuti per un eventuale step sulla quartiere finale semifinale soprattutto la finale dove si giocano tutte le carte quindi giocarli in un'ottava di finale non sempre potrebbe essere una mossa saggia intanto salutiamo anche il Duardo che l'anzi il Duardo si chiama così perché è un nanazzo dentro ah benissimo benissimo guardo in barbaviola è anche uno anche sul programma Twitch se non ricordo male quindi uno streamer anche lui fa piacere avere questi spettatori di livello nanazzi nel cuore nanazzi nel cuore sempre anche se mi chiamano warboss quindi comunque ultimamente ho preso una svolta green e con green non intendo proteggere la natura soprattutto proteggere i tremen detto questo esattamente ho lasciato un po' anche il puntatore sul necromancer per far leggere a tutti che cosa fa il necromancer perché è una di quelle cose che non si vede insomma tutti i giorni ovviamente le squadre di undead spesso hanno necromancer in panchina una volta per match se un giocatore del team avversario con forza 4 o meno che non ha rigenerazione ostanti viene ucciso allora puoi piazzare un nuovo zombie nelle tue riserve è un'opzione che comunque data la squadra soprattutto una squadra che picchia come un ferraio come questa potrebbe diventare in realtà eh sì potrebbe facilmente considerata anche esatto potremmo vederlo però per contro non possono guarire i propri giocatori la gran parte dei giocatori di una squadra di non morti di solito ha rigenerazione o è completamente inutile perché è già morta ma la rimetti a nuovo ovviamente stare attenti a che cosa ai ghoul che sono quelli con armatura bassa e che si fanno male più spesso e che non hanno rigenerazione eh sì sono gli uomini ah sì perché poi beh i werewolf i werewolf fanno rigenerazione quindi si rigenerano insomma che cosa aspetta un attimo questo perdonami è l'occhio ah frenzy ecco mi dimenticavo frenzy esatto 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 perché l'occhio mi dava di come si chiama a sguardo ipnotico ah no 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 quelli sono i vampiri però infatti li vedremo domani esatto esatto i vampiri di Diomand li vediamo domani beh intanto grande Edoardo che ha detto che gli abbiamo fatto tornare voglia di Blood Bowl ah benissimo lui chiama vero football è quello che vogliamo assolutamente risvegliare la frenesia per il Blood Bowl in tutti voi allora allora qua direi che abbiamo visto tutto quindi mi riporto alla schermata principale e attendiamo la partita magari direi di sì dovrebbe iniziare in una decina di minuti teniamo d'occhio la Cabal Vision certo e niente domani invece seguiremo la diretta per l'altra partita di Ottavi molto interessante che è quella tra Kay Fogge e Diomed e li vedremo di nuovo i Woody's però che stavolta affrontare un team di vampiri ah sì sarà divertente anche perché team di vampiri non si vedono tutti i giorni si vedono di più tutte le sere ecco perché di giorno non è che giocano tutti i giorni non li vedremo quasi male attenzione attenzione sono live quindi andiamo subito assolutamente intanto voglio rispondere a Massimo Mattia ma anche la squadra del caos di Zinch o Nargol che è ipnotic qualcosa diceva tutto il caos può prendere ipnotic qualcosa con un doppio adesso questo non non lo saprei dire probabilmente nelle nuove nel nel Blood Bowl 2020 avendo i vari caos dedicati alle divinità vedremo anche questo nel 2016 nel Blood Bowl 2016 che è il ruling di Blood Bowl 2 non ho certezza che Sguardo ipnotico fosse tra le scelte delle mutazioni potrebbe essere non ho certezza non gioco caos spesso mea colpa e anche se dici spesso pure io non gioco caos esatto e comunque siamo già al secondo turno beh io mi sto connettendo quindi stiamo connettendo un po' anticipata la partita ma eccoci qua già e vediamo che Martin ha già messo al sicuro la palla in uno dei 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 corner del campo e sta procedendo a effettuare una serie di blocchi ha appena messo K1 degli zombie di cui parlavamo prima è un blocco a un dado fatto bene ah è via è via ci ha lasciato la mascella da niente e diciamo ecco così qua il gioco è iniziato bello duro con un fallo su uno stordito ma fondamentalmente tirar fuori un white di questo di questo tipo con un fallo a più cinque e aveva un senso più che normale sì sì oltretutto molto pericoloso con tankle inoltre se i Wood Elf non iniziano a rimuovere qualcosa verranno comunque presto rimossi per cause naturali chiamiamo le cause naturali però sì intanto vogliamo ringraziare il nuovo sponsor banca middle lineman ah costruita intorno al treman sì esattamente esatto quindi abbiamo uno di treman quindi vediamo se i lineman Wood Elf procederanno a costruirci una banca intorno diciamo che gli zombie non hanno fatto abbastanza per il momento no anche perché si stanno come dire masticando reganissi di liquirizia sento il rumore di una tempesta lontana ah credo che Martin abbia in qualche modo dimenticato di passare il turno potrebbe essere magari ne sta approfittando per ragionare su quello che potrebbe fare dopo e quindi si sta prendendo tempo sempre che la terza è peggiore dell'ipotesi non sia che è partita la linea può anche darsi vedo però il timer scorre in norma quando la linea va giù si blocca ma allora l'altra volta era successo quando guardavamo Rick che il timer era arrivato a zero e poi dopo quattro tre minuti insomma stavamo parlando è ritornata a 32 qua invece vedo che proprio si prendeva tempo per pensare sì probabilmente stava valutando strategie per i turni a venire cosa di altissimo livello in un giocatore di Blood Bowl non cerco comune e quindi si è preso il suo tempo un incrocio tra un giocatore di scacchi e il pazzo di una notte da leone aia aia qua banca medio lineman inizia a prendere forma assolutamente come come ci aspettavamo ale ale eccolo qua close ah peccato il primo blocco non ha effetto però stand firm lo aiuta a prendere altre mazzate eeeh beh ha rirollato ha rirollato e ha stordito l'uomo e fallaccio no pilingone hai ragione peccato 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 ha attorno 6 6-2 vodi potete vedere i tiri di dado per chi non ha diciamo familiarità con con il gioco qua sotto passano i tiri di dado mentre siete di sotto ringraziamo anche pittrat lo snack di ogni scaven di linea e il fallaccio eccolo qua ed è anche quello bravo a fare i falli però è un ennesimo 6 se ennesimo 6 un altro stordito 6 per l'armatura e 6 per quanti 6 vuole fare ringraziamo slanesh per tutti questi 6 finché si tratta di 6 su due dadi va ancora bene quando comincia ad essere un dado solo martin septim sta cercando una soluzione laterale wilde sta cercando veramente di levarsi il treman da ogni da ogni da ogni calcolo eh non è un'attiva idea ma è un po' è un po' quello che martin sperava credo infatti sta costruendo ecco eccola la palla sta costruendo un health screen classico per muovere in avanti vediamo come procede con il war dancer health screen più gabbia non si fida assolutamente nel frattempo mi è sembrato di sentire sussurrare una white con un vecchio adagio che il nostro amico usava dire che era torna alla natura figlio di puttana ma attenzione che un dojo è stato sbagliato attenzione sì 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 è giustamente uno degli ultimi degli ultimi tiri decide di non rirollare comprensibile il trimel nel frattempo si gira per abbronzarsi anche di fronte come diceva come diceva il bondagizio torna alla natura figlio di puttana per quanto riguarda il trimel ci stanno provando forte ma sicuramente non sarà l'ultimo fallo che vedremo no no almeno finché il dirty player rimane in campo devono fare forse un minimo di pressing di blocchi comunque perché ah ho notato che wild ha anche preso un bribe ha fatto bene qui si spiega ha fatto bene qua nel frattempo anch'io ho delle monete chissà questo bribe che fine avrà fatto forza wild si è comprato tutto compreso i tifosi e commentatori assolutamente la tua metà te la do dopo benissimo e quindi vediamo che wild sta cercando appunto di accerchiare l'health screen basando più pezzi possibile e altrettanto coprendo la parte deep della sua endzone tra l'altro leggo un attimo un messaggio di massimo mattita che mi dice non viene visto ma di cosa stai parlando massimo ah basta finito il three man eh chiaramente non può permettersi di lasciare tutta la squadra lì adesso con gli elfi che stanno scappando sulla sinistra arriva blizzone questo va giù pesantemente nessun effetto però eh con un bel tre l'armatura rimane lì dov'è ah no mi diceva il fallo di prima non viene visto no perché i falli vengono visti solo in caso di doppio giusto Lanza esatto esatto in caso di doppio su roll armatura o roll danno se non viene un doppio in quei due casi il fallo non viene visto ma anche se fosse stato visto come dicevamo eh Wild si è comprato un bel ref quindi potrebbe avere una bella possibilità esattamente sul duo più di essere ignorato lo stesso nel frattempo la palla torna indietro forse c'è un cambio di gioco sì quel lato è diventato sì 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 no vai vai quel lato è diventato problematico esatto esatto sì ha visto la reazione immediata di Wild ha deciso di tentare un'altra via ora vedremo diciamo che scolpire con le ghiande colpisci mi sul trimem non ha funzionato eh no eh no per niente ah lo sapeva Massimo Mattia era una constatazione di fatto che non viene visto il fallo giustamente ma io se fosse per me non li vedrei neanche falli falli fanno parte ah ma questo rumore di temporale era semplicemente il primo in che si realita esatto il fruscio delle foglie e lamentarsi dei rami da qui posso vedere forse anche una locanda dell'ultima dimora di Dragonlance in miniatura sulle sue spalle attenzione giustamente cerca sì sì di 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 gioco conservativo da parte di di Martin Safety perché effettivamente sta dipendendo bene perché la squadra di Necromantica ha un'ottima mobilità quindi può andare un po' a destra un po' a sinistra finché i suoi key player se rimangono a piedi verissimo infatti sta evitando quasi tutti i blocchi possibili in modo da salvaguardare i suoi pezzi e allo stesso tempo copre il campo in maniera ampia e non gli non gli lascia molte opzioni se non quella di basare il più possibile è anche vero che gli alfi silvani in un paio di turni possono farti meta assolutamente a sinistra inizia a vedere un buco abbastanza importante vorrei ricordare che come war dancer una volta avevano leap c'è un c'alla che secondo me e vedi c'alla ora è circondato ma con leap in realtà può tranquillamente smargarsi si non più ma viene mi stato ah sono spinta oh è con take all erano questi i blocchi che vi dicevamo esatto blizza tre dadi aia efficace ma non troppo sono carezze solo uno stun però era un giocatore chiave adesso la strategia è un'altra probabilmente aveva visto anche lui la possibilità del del balzo e dell'eventuale corsa verso l'handzone e ha deciso di cancellare il problema alla radice come direbbe il treman come direbbe il treman si che tra l'altro è sotto radici quindi non lo vedremo muovere più almeno per questo drive eh già eccolo lì eccolo lì c'è un progetto che vorrebbe vedere delle telecamere di cabal vision installate sulla testa retrimen perché sarebbe un ottimo punto rivista in caso di radici un grandangolo perfetto si arriva lo stun un blitz ovviamente necessario ad aprire il gioco sulla destra ora probabilmente vedremo un elf screen su questa fascia Aulus il vecchio era già stordito in vita figuriamoci adesso nella sua storia c'è scritto che guardava i lavori in corso nei cimiteri commentava è stato preso a simpatia dal coach dei necromati attenzione al passaggio sidecage sidecage per per Martin e questo catcher adesso sidestep quindi non può volare fuori ovviamente surfeit leap sprint dodge e catch ne vedremo delle belle fermarlo adesso sarà quasi impossibile ottimo lavoro di Martin che sfrutta addirittura il stream inrutato come parte dello screen grazie al posizionamento degli altri pezzi ah si se li passi vicino ti fa vedere che è ancora vivo e con quale vediamo 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 come rispondere a wild il coach dei necromantic a questo tentativo di fuga anche se non può fare veramente molto perché la squadra è sbilanciata dall'altro lato eh si e questi sono i pro player ragazzi ovviamente non puoi andare a casa sperando che gli elfi silvani non ti facciano una meta però ti fanno perdere tempo anche quindi insomma eh si assolutamente la cosa che Martin sta cercando di fare segnare il più tardi possibile ci vuole una certa maestria nel farlo restando vivi specialmente con gli elfi silvani si gli elfi silvani hanno praticamente tutti armatura 7 a parte il trinan che meno male l'armatura 7 se lo becca il werewolf eh si che vi diciamo che in questo caso specifico è come se tutti fossero sull'armatura 7 ora probabilmente wild si concentrerà sulle ferite e cercherà intanto di mandare George Kusk Vulsey a dare fastidio al mega catcher degli elfi silvani potremmo anche chiamare star player eh si entrambi sono ad altissimi livelli entrambi questi giocatori un altro blitz aia eh niente niente non ottiene nessun payout se non un misero stun questa settimana gli elfi silvani hanno fatto un addestramento intensivo o sarà o sarà quella pomata antigrafica che ho visto mettersi negli spogliatori della partita puoi essere benissimo avrei visto meglio un blitz sull'altro line per cercare di liberare uno spazio per il dodge a tre o più e liberare e muovere più pezzi di fronte a alla semigabbia dei silvani ma ha deciso di concentrarsi su line con garden block tanto sono tempi duri per ramonda che tra l'altro è anche il nome di un negozio che sta qui a trento sorella e ramonda quindi magari sono imparentati line circondato così non lo vedo benissimo in effetti ha comunque la possibilità di uscirne con un tra un più due o più ma ma è l'ultima cosa che farà esatto sì corricchia ma non apre e blizza per aprire il passaggio assolutamente eccolo qua e arriva il colpo arriva attenzione sullo scatto che ha no scivola sulle budella dello zombie ma riesce a rimettersi in piedi con un rero sarebbe stato devastante eh gli zombie sono pericolosi anche da stramotti e allora e allora ditelo che qualcuno si è messo troppo a crema antigraffio soprattutto i war dancer entrambi hanno fallito il go for in sì questo è il risultato di rientrare troppo tardi dalla discoteca ale 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 non c'è verso tutti storditi sì questo potrebbe non ne rimuove uno cazzo potrebbe essere molto pesante specialmente nel secondo tempo se non se non cambia registro wild tu ci hai pagato ma non possiamo entrare in campo non ci ha pagato abbastanza primitivo eh no con un inducement vi ricordiamo che possiamo portare sfiga a un giocatore a comando in diretta però dovete pagarci 150.000 gold vabbè sono carezze mi chiedo perché non si è andato con elmo di angria che ha mighty blow forse sta pensando a un blitz è possibile oppure sta decidendo di riposizionarlo ah picc'altro perché è un'occasione per un removal sì quello sì è probabile che il blitz lo vedremo sul war dancer comunque quello davanti alla palla perché il blitz sì lo farà su con il lupo sì sul war dancer sì oh no via dalla squadra all'inseguimento eccolo qua no decide per ah con un block che sfortunata coincidenza molto male sì non ha potuto sfruttare nemmeno frenzy e se lo teneva per questo elmo di angry per creare un po' di pressione là sotto per costringere un po' la meta forse eh credo sia quello il motivo perché chiaramente non crea nessun ostacolo al passaggio dell'elfo che decide di fermarsi ci sta pensando dovesse segnare adesso lascerebbe due turni ai necromanti che con otto di movimento degli werewolf possono tranquillamente segnare due turni alla palla demoniaca in mano forse gli sta sussurrando qualcosa no non segnare adesso una roba del genere no dacci lo spettacolo segna con sidestep potrebbe essere però posso dirti che potrebbe essere se lui segnasse con sidestep nel turno dell'avversario certo guadagnerebbe un turno perché si perderebbe un turno in festeggiamento se non ricordo male perderebbe senz'altro il turno di di wild è un gran rischio ma si si non si darà tutto il tackle che c'è in giro eh si però dove sta si però se va a copertura così blitz sullo wild ah questo blitz poteva andare meglio credo che possa accontentarsi di screenare guarda essere un po' diludenti un po' si sia nelle azioni di corsa che nelle azioni di attacco vuol proprio prendere tempo pop a dodge ma riesce nel secondo tentativo e ora è screenato in maniera più che sufficiente si 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 va con le botte eh si queste protezioni sono veramente comunque partita di alto livello non ci aspettavamo di meno no no sono due ottimi giocatori specialmente martin wild lo conosco un po' meno ma vediamo cosa si inventa per farsi conoscere si si inventa della sana violenza probabilmente cominciamo a muovere i pezzi più distanti e con meno intrarci dall'azione giustamente ecco un buon consiglio effettivamente muovere i pezzi che comunque non vanno a fare blitz nei posti dove si vuole perché sennò fanno un momento sbagliato questo è un KO finalmente il primo timido tentativo di removal da parte della squadra dei necromani potrebbe essere interessante se non dovesse tornare in campo una guardia in meno e sono blocchi è arrivato il blitz sul world dancer vediamo se ha effetto è stordito che forse è proprio quello che voleva un altro stun forse avrebbe potuto non lo so non lo so vediamo se riesce a coprire il sidestep beh ci sarebbe un'azione veramente ma non abbastanza da fare consisterebbe nello smarcare il lupo di fronte al catch ma io forse non lo so magari sbaglio ma avrei mosso la white al posto del werewolf avrei mosso però il werewolf deve fare comunque un dodge rischioso no va bene va bene mi fa fare qualche tiro qua intanto le botte ma niente comunque shuri agilità 5 quindi per lui il dodge in end zone rimane in due con un re-roll ha pure dodge quindi non lo deve neanche usare con l'ip se l'è saltata alla fine non cambiava nulla 1-0 per gli elfi silvano benissimo ottima azione ragionata e si comincia vediamo il KO e un elfo silvano si ripiglia pure quindi si non ha neanche perso una delle sue guardie ottimo primo tempo forse forse se dato che ho visto tra i tifosi un sacco di uomini ammirare la squadra degli wood elf e questo probabilmente ha incrementato il numero dei 6 della squadra e sono certamente fisicati per fare tutte le pirouette che fanno girano come delle ghiande quindi adesso avremo un turno di 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 blocchi e vediamo se Wild schiera per il possibile Riot non si sa mai potrebbe ottenere un turno in più dall'evento del kickoff ok ci sono delle persone qua davanti che non non staranno lì un war dancer e un catcher verranno presto sostituiti tra lineman sacrificali immagino se Martin sta aspirato contro con one turner ma no come mai ha schierato così secondo te non saprei ma evidentemente ha molta fiducia nel plodgestep del war dancer e del catcher però il pickle c'è va bene allora il genio va compreso in questo momento io non riesco ma sicuramente lui sa quello che fa allora posso arrivare a pensare che siccome ha schierato contro un one turner abbia messo volontariamente i due sidestepper sulla linea più il massiccio del primen per evitare spinte a favore di meta quindi con sidestepper annullerebbe qualsiasi tentativo di incastro e spinta nei confronti del del giocatore necessario a fare meta c'è un blitz marona c'è il blitz ragazzi adesso vediamo l'uomo albero cosa combina eh l'uomo albero war dancer e il catcher in linea non possono agire in quanto il blitz ah è vero sono in linea si si potrà semplicemente ricollocarsi si sa ormai è abbastanza tranquillo che il one turner non possa essere cosa spiega un attimo cos'è un one turner e come funziona l'anzag per chi magari ah si one turner è il tentativo di fare meta in un turno le squadre con giocatori con movimento 8 o superiore hanno abbastanza facilità ad ottenerli relativa e tramite la concatenazione di blocchi sulla linea di scrimmage praticamente un blitz viene effettuato alle spalle di uno dei giocatori avversari sulla linea di scrimmage e questo viene spinto all'interno della formazione della propria squadra creando una concatenazione di spinte che muove il giocatore interessato ad effettuare la meta in un turno avanti di una casella alla volta e facendo questo un paio di volte generalmente con giocatori a movimento 8 si riesce ad avere la possibilità di fare meta in un turno anche con appunto squadre senza natural one turner players ovvero giocatori che muovono di 13 caselle da soli lo schieramento di martin era apposta fatto per evitare questo vediamo infatti gente con sidestep chiamate anche sidestepers che vengono ovviamente menati a sangue perché è questo il loro destino ma comunque e comunque con mighty blow non succede niente sidestep ovviamente lasciando la scelta della casella di spinta al giocatore colpito dal blocco annulla tutta questa strategia e altrettanto fa stand firm sul trin non avendo juggernaut almeno si si in spia mente parte il blocco ahhh doppio teschio inrollato va giù il trimen stordito è una potan dai dove sei dove sei aia ma il dirty player mi sa che ora dovrà muovere via qualcuno parte il blitz e niente da fare filing on filing on però ci può aiutare no 4 e 3 ingiurirò l'allucinante guardate questo buco che ci ha formato qui che sta aspettando una persona che conosciamo bene eccola qua eeeh vabbè l'hai tirato fuori lo bribe si e via di soldi vai e nessun effetto fortunatissimo ma guardate ragazzi questi elfi silvani stanno veramente veramente sfidando la fortuna stiamo assistendo a a un anche troppo comune caso di skill health uno potrebbe pensare che mettere l'armatura 7 e vdel possa aiutare a bilanciare le cose ma quando non succede è un grosso problema nel frattempo vediamo un grande palo della luce in mezzo al campo con fresche frasche esatto sarebbe un bel nome per un prima di fresche frasche fresche frasche sì assolutamente ma anche una marca di gomme da masticare di evidenza assolutamente ci sta ci sta reganissi e fresche frasche esatto i reganissi per chi non li conoscesse sono i bastoni di liquirizia in gergo ma quelli di legno non quelli neri buoni dolci quelli di liquirizia e liquirizia radice di liquirizia esattamente il reganissio all'inizio del secondo tempo siamo 1-0 per gli api silvani adesso la palla andrà a necromanti quindi avranno un'occasione per pareggiare i conti e mi viene da ridere però dico e fare un po' di removal sugli api silvani cosa che non è successa tra l'altro questa partita ovviamente non può finire in un pareggio perché è un'eliminazione diretta se non ci sarà un risultato definitivo entro la fine del secondo tempo vedremo i supplementari come funzionano i supplementari Lanza qua? in modo randomico viene assegnato ad uno dei giocatori il primo supplementare nel senso che uno dei giocatori riceverà la palla durante il primo supplementare che sarà di 4 turni come il secondo e il punto è che durante i supplementari c'è il golden touchdown ovvero chi segna per primo vince come era il vecchio dungeon ball alla fine esatto esatto quindi se questo dovesse capitare agli elfi silvani fermarli nel tentativo di touchdown sarebbe veramente difficile per wild se non rimuove qualcuno eh sì dovremmo cercare blocchi con mighty blow a vuoto questa è una spinta considerata questa eventualità di supplementari mi chiedo se non voglia tentare tutto per tutto e segnare velocemente nel secondo tempo intanto vediamo come l'abilità calcio kick abbia messo il pallone in una posizione veramente fastidiosa per i nitromantic anche se con i goal poi riuscirà a raggiungerla ma la mettono dove vogliono arriva dateci un po' di sport ragazzi dai è così oggi la sagra degli storditi la sagra degli storditi adesso mi sono annoiato adesso mi sono annoiato e lancerò una pesante macumba che così almeno la gente poi ci pagherà in monete d'oro per farlo e dirò che la prossima volta che un'armatura verrà passata ci sarà un'ingiuri secca ah questo sarebbe sarebbe interessante speriamo ah si io l'ho detto vediamo se qualche divinità riesci anche a vedere su chi no 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 io l'ho lanciata non posso dire su chi perché a questo punto però se dovessi scegliere una squadra differente da quella che mi ha pagato direi su Gliassi Silvani capisco capisco ma non lo dice ottima scelta no però l'ho lanciata e incombe sul campo prima armatura passata primo ingiuri primo ingiuri no uno è fuori però vogliamo vedere di più si anche perché quell'ingiuri lì non conta molto un line senza schifo una tristezza probabilmente è stato pagato per farsi male esatto parliamo di Azzari sembra una marca di un profumo molto famoso quindi a volte anche questo è scamotaggio uno si fa male dice chi è che sei infortunato? Azzari come il profumo come lui tac il marketing perfetto se volete nominare il vostro negozio la vostra attività come un uomo di linea della nostra squadra a Fitizia fatecelo sapere vi manderemo le coordinate dove potete inviare il vostro baule d'oro arriva la botta guarda qua ho detto arriva la botta è arrivata la botta è arrivata nessuna il pubblico si meraviglia che non è stata passata l'armatura ma noi sappiamo benissimo perché non è stata passata l'armatura anche troppo dodge fallito dodge fallito nessuna conseguenza tristezza gloom ovunque un po' si un po' si dato ricordiamoci che il pallone risiede qua e adesso avanza guardate come va veloce il nostro portatore di palla sta cercando di mettersi del sicuro dai vtev che hanno aperto una micro breccia sulla destra attenzione ma niente niente incredibile Tokyo per passare l'armatura ne abbiamo visti parecchi di Tokyo da parte sua un Tokyo voglio ricordare a chi non sa cos'è il Tokyo è un 2 e un 1 un gioco di dadi molto famoso si chiama Tokyo che dà il nome ma questo è Blood Bowl non è Tokyo quindi vorremmo vedere del sangue e delle ossa rotte e degli altri più di Milano possibilmente nuove perché di sangue e ossa rotte con gli zombie ne stiamo vedendo parecchie nel campo ma non quelle che vogliamo vedere noi me lo sento è nell'aria è nell'aria attenzione frenzy e trova è nell'aria con take off me lo sento no no cioè oh ragazzi non ha funzionato neanche la mia macumba è immune è immune è una squadra immune chiude la gabbia anche se sappiamo bene che contro il World Dancer le gabbie sono quello che sono salta di qui balta di là come mai sono quello che sono le gabbie lanza dici il perché prima che lo scopriamo così no perché con un balzo possono tranquillamente saltare all'interno di uno dei delle caselle libere e portando un paio di supporti anche con dei regolarissimi linemen possono andare ad un dado secchi sulla palla e con strip ball non c'è blodge che tenga però forse presa sicura ovviamente fa la differenza ma take all comunque toglie il dodge quindi il rischio esiste ma vediamo che blizza da un'altra parte ha rirollato la doppia spinta perché anche lui si è annoiato di vedere queste cose lo vuol vedere per terra secondo me lo vuole anche anche un po' fallare con una serie di dodge però ha rirollato quindi deve stare molto attento è decisamente un attimo bersaglio per un fallo armatura 6 in questo momento non credo voglia buttare al fallo guarda l'albero guarda l'albero è sempre uno zombie KO è il nostro amico Bartram Mamedefeu è arriva il fallo eccolo qua è arrivato il fallo ma nessun effetto di espulsione se lo merita ci sta e in questo modo questa partita è orrendamente equilibrata anche nei removal in effetti si qua sotto si sta consumando un dramma non l'avevo visto eccolo qua ma un dramma nel senso che l'Elfo Silvano è sopravvissuto con un tiro di 6 sull'armatura un Elfo Silvano importante tra l'altro dovesse esserci nel tempo supplementare il kicker ma intanto gli Elfo Silvani non so siamo vittima tutti della stessa droga sembra di giocare sul campo degli unicorni e un altro va giù dai dai usala sta forza c'è la 3 di un altro Tokyo c'è ma mighty blow ragazzi mighty blow sarà la quarta un quarto pugno in faccia che si prende con l'Elfo e ne vuole ancora siamo pronti a vederlo rialzarsi si con quella faccia strafottente che dice non mi fai niente però vedremo un blitz dell'uomo lupo per terra probabilmente vorrà vendicarsi immediatamente del colpo subito eccolo qua che arriva di inefficacia disarmante è incredibile e io che speravo tipo non so le prossime stelle che voglio vedere sono una pioggia di meteoro sul campo limen con block che non riescono a buttare giù uno zombie con block anche lui però e con l'aiuto degli amici vediamo come la situazione con il war dancer possa diventare interessante e scusate ci sarà un blitz addirittura esatto niente tutto quindi funziona ha blitzato il blodger peccato che non ha pressing al contrario di lui non mi è piaciuto questo blitz eh neanche a me il lupo mannaro o snarl si farà un nodo al belino per ricordarsi di questo affronto assolutamente l'ha accarezzato sulla testa l'ha detto bravo cucciolo vediamo che martin scrina il suo best blitzer tenendolo pronto ad approfittare di qualsiasi errore di posizionamento ci ha che è lì che aspetta ci ricordiamo che se dovesse mai finire in pareggio questa partita convincerebbero gli elfi silvani ad attaccare giusto? no no sarà scelto casualmente con toss sì sì peccato che non si può braibare il coin toss sarebbe troppo non sei il primo che ha valutato questa possibilità per un inducement è la cosa più vecchia del mondo ma sarebbe troppo forte molto molto forte sì probabilmente la cabal vision ha messo un incantesimo che fulminerebbe automaticamente il ref onestamente dovrei guardare le perghiere di Nafol del regolamento 2020 è possibile che ci sia qualcosa a riguardo arriva arriva attenzione blitz cade anche prima miss next game quindi fuori dai giochi anche nel caso di un eventuale quarto alla fine della partita verranno distribuiti ovviamente dei pezzi di tremen a memento costeranno solo 10.000 pezzi d'oro affrettatevi ci sono già delle ordinazioni vanno in delirio tutte queste cose lo sappiamo finalmente qualcuno fa il suo lavoro in questo super pagato sport qualcuno direbbe sì quel giocatore è pagato 60.000 però in realtà sono sempre i soliti 60.000 che girano perché quando muore ne arriva un altro e all'altro vengono dati i suoi 60.000 non è così costoso dicono se muori allora il tremen è stata una remuola importante ma non porta vantaggio nell'immediato esatto come diceva Massimo ma sei sicuro che l'albero ti desse così fastidio e la mia risposta è quello che mi dava fastidio è l'assenza di infortuni devo essere sincero esattamente non era l'albero in sé era che stavo cercando la morte e nessuno me la dava e quindi io la volevo è arrivata finalmente meno male che qualcuno si è fatto male e qualcun altro si farà male presto voglio ben sperare il lupo mannaro prende cazzotti l'ip champ non se ne accorge quasi ah lì gli zombie le peghi che causano turnover ancora quattro turni per arrivare in meta il tempo c'è neanche cadendo si fa male alla gente in questa partita il campo e nastro granite sotto è stato sottotituto da un nastro puffi marshmallow dai giardinieri voodelle ma nonna ragazzi il morbido muschio zombie famelici blitz vai col mighty blow dai dai ma non riesce neanche a buttarlo in terra e neanche a spingerlo dove vuole perchè ha sidestep non riesce a fare niente si mazzi ma però lo segue insultandolo urlandogli la prossima volta invece di picchiarti ti annego in un barile di blood laser assolutamente frenzi frenzi peccato che ha block perchè è un giocatore di una certa esperienza si alien molto poco di fatto molto poco di fatto in questo turno tutti gli life si sono allenati al famoso videogioco sidestep revolution ce ne sono un paio proprio bravi questo corre addirittura in mezzo ai compagni eeeh arriva eeeh non basta a tickle si che basta 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 si che basta è il morto di essere giusto basta e avanza e c'è lo stun eeeh questo stun pesano un poco per la difesa del giocatore necromantico se ha altre buone scelte di blitz ma è uno dei suoi pezzi più forti finora non ha potuto contare sui mighty blow degli spettri quindi intanto scappa troppo anche lui martin sta facendo il classico double screen con la doppia linea di elfi per bloccare l'avanzata c'è c'è questa diagonale che lo porta ancora in zona di metà sinistra però non è deve avanzare ancora un paio di caselle per almeno tentare si vediamo cosa si verrà già eh ok si apre una via continua a dire doppio due l'armatura la via il flash golem ha prepista vediamo come vuosley vuosley marca il territorio si porta in zona touchdown si è esattamente a sette caselle dalla meta adesso il gol quindi senza go for it può spero non voglio utilizzare Marow Rager in difesa ci ricordiamo che comunque vada ciaca a leap quindi può tranquillamente superare quasi ogni ostacolo che lo circonde eh sì ah però però molto intelligente da parte di build il posizionamento delle due guardie opposte agli angoli in la gabbia esatto questo si gangerà il war dancer ad andare a duda di contro tra l'altro anche il sacco di carne che ha appena mosso ha block il goal che blocca attenzione a sorpresa e questo stordimento è providenziale comunque se lo becca lo stesso volendo un block solo che non ha straight ball ciaca eh sì parli del goal eh sì volendo però è rischiosissimo eh sì oltretutto sarebbe a due da di contro in ogni caso visto le guardie doppia difesa vediamo se riesce rialzare qua ma arriva dalla distanza abbassiamoli di un punto l'armatura dicevano mettiamoli un punto movimento in più dicevano qua vanno chiude bene doppio chiude bene lo screen quando uno si chiede a cosa può servire il multiple block a spingere due persone contemporaneamente senza side step eh purtroppo l'ultimo block non può essere usato sul blitz eh sì quindi il problema è quel altrimenti ci si lancierebbero tutti a pesce sarebbe anche giusto così sì violenza multipla e adesso ancora due turni per segnare può sembrare scontato ma non è assolutamente facile deve assolutamente rimuovere uno di quei quattro elfi sì non so tu che dici eh sto pensando quali potrebbero essere le soluzioni eh forse rimuovere il kicker al centro e spostare verso verso destra l'attacco lasciando qualche strascico per evitare un secondo elf screen eh non è semplice io andrei con un mighty blow su Zuri che è un lineman senza gloria e cercherai di rimuoverlo magari con un frenzy anche funzionano bene però frenzy due da di contro lo spinge fuori non lo so non è facile no non è mai facile quando sono loro i campioni forse si prepara per andare contro il catch probabilmente il pizzando via il catch possa ah no va contro il lineman che dicevo prima mighty blow stortito però almeno per due turni fino alla fine della partita sta lì probabilmente si rialza alla fine forse a convenienza basare tutti gli elfi possibili almeno senza smontare la la semigappia deve stare attento deve stare attento da dietro comunque perché dietro si si qua per terra riga scherza no c'è un lineman veramente inutile no beh abbastanza lo perdo se lo pensavo ci fosse ci fosse cialla che però ha spostato a destra forse magari l'avrei messo a posto in questi due linemen nella linea secondaria ora c'è veramente tutta la squadra dei necromantic e sarà veramente difficile non vederli arrivare a meta se devo inventare qualcosa ha fatto una cosa intelligente con l'ultimo pezzo ha mosso un altro scoring threat il secondo goal sulla destra in modo da impensierire Martin perché se fa una doppia difesa cosa che sarebbe anche logica ha sempre si apre un'opzione un'opzione realistica si potrebbe attirare il blitz di turno e lasciare più libero il passaggio per il portatore di pallo intanto ho notato una cosa il tempo in queste ottave di finale è tre minuti non due si negli ottavi tutti i playoff ci sono tre minuti di turno mi sembra giusto perché comunque insomma ragionare un minimo in questi casi è d'obbligo sì assolutamente essendo poi un numero molto limitato di partite non ha senso mettere fretta sono anche partite piacevoli da guardare quindi il tempo che comunque aumenta uno potrebbe chiedersi come mai se durano un tre minuti qua in realtà la diretta dura magari un'ora piuttosto che un'ora e mezza tutto via ora ve lo dico prima mi guardo questo bel bloc che è nulla di fatto perché alla fine ogni volta che si lanciano i dadi o c'è l'animazione del giocatore che corre cammina eccetera il tempo si ferma quindi c'è qualche secondo che viene rubato a questo timer cosa che nella vita reale ovviamente non si può fare quindi quando si usano i quattro minuti per giocare a tavolo insomma questa difesa qua eh giocata veramente bene stavo un po' guardando potrebbe esserci un blitz da parte anche del lupo ma sta coprendo anche quella fascia lì però il lupo muove di otto uno due tre quattro cinque sei sette otto potrebbe esserci un passaggio in quella direzione però c'è anche infatti lo viene a coprire subito lo viene a coprire subito il lupo potrebbe esserci un blitz e quindi deve raddoppiare però non può più farlo perché finita i giocatori agilità quattro agilità quattro con catch potrebbe esserci un mezzo il per cento secondo me non lo so no secondo me è un semplice blitz a due dadi basterebbe una spinta e poi un end off al tre o più ed è meta non ci sono molte molte problematiche in questo score vediamo se se non si complica la vita a wild di chi il blitz a tre dadi? no anche a due non c'è necessità per un tre dadi ma probabilmente farà sul sull'ineman con la sinistra si injured però poi per arrivare nel zone il lupo può arrivare tranquillamente perché ha freno a otto di movimento no a otto di movimento non si fa il blitz con l'uomo con la palla no infatti con il lupo però eh se lo deve togliere dalle balle è quello certo ah ok ok si era quello che dicevo anch'io allora ok 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 non avevo capito scusa no no eccolo che arriva guarda lì eh questo è bello oh cavolo ragazzi un K.O l'ha pure rimosso guardate questi due giocatori fantastici ecco l'endoff fatto e direi chi è touchdown giocatori fantastici con ancora tre riroli in saccoccia vanno a fare touchdown touchdown del pareggio molto molto semplice questa azione Martin non ha non ha lasciato una difesa coriacea quest'ultimo turno qualcosina gli aveva rimosso anche lui e i lupi i lupi i lupi sono i lupi ragazzi si salutiamo il Duardo che è scappato via grazie per averci seduto finora avrai registrazione sul canale e quindi a meno di one turner peraltro possibili andremo a supplementari perché abbiamo il nostro amico Nakia connecting people movimento 9 sprint surfeit eh si catch gli basta esattamente un push sprint no sprint surrens quindi 9 più 2 11 più 2 no con ci si ok non ha reroll sullo sprint vabbè ha due reroll ha anche su un feed ah è l'altro catch scusa allora era era shuri probabilmente si si è shuri shuri eccolo qua si infatti ha anche leap in caso fosse ancora in piedi leap sprint surfeit eccolo qua agilità 5 eh avendo sidestep pingelo nella casella utile è molto più semplice quindi sai che ci sono grosse possibilità di vedere un one turner a questo punto si anche perché c'è una linea in fondo che serve solo per non farti massacrare ma può venire tranquillamente saltata via esatto è lì che arriva lift e a questo punto dove calcerà eh attenzione però il giocatore centrale della line line of scrimmage di wield è un sidestepper e gli altri due sono stand first non sarà così semplice ma è comunque fattibile dovrà muovere pezzi dietro e chiudere tutte le possibilità di sidestep che fa il gomme beh non lo aiuta più di tanto si muove adesso sicuramente questa situazione non lo aiuta no non lo aiuta perfect defense è l'anti in questo caso peggio che poteva capitare vedo ancora una possibilità per quanto remota vediamo se la vede anche martin martin dove sta allora necessariamente dovrà dovrà spostare tutti i suoi pezzi liberi intorno al sidestepper in modo da creargli un quadrato di unica via d'uscita di pezzi intorno e lo farà vediamo se riesce a farlo sta provando devo dire che wield non ha rischierato in maniera corretta eh sì bastava uno spazietto in più no tra doveva andare sulla sinistra invece sulla destra rimanevo in contatto con il giocatore chiave esatto e qui arriva la spinta decisiva gli basta ricordiamo che è lui che doveva spingere Shuri esattamente ora basterà andare a recuperare la palla sì credo che vorrà forse liberarsi anche del flash golem no attenzione rirol però braggio ai 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 ragazzi è endor e adesso non rirol non c'è rirol quindi e adesso il leap sarà un problema il leap è leap naturale come si faceva una volta in mezzo alle foreste foresta di zombie in questo caso scommesse aperte su chi su chi salterà il numero 6 il numero 10 o il numero 9 vediamo arriva arriva in zona il leap funziona marco al 2 con dodge ed è meta ed è meta si lancia via prima che lo zombie li possa azzanare le caviglie e con questa meta direi che finisce c'è anche l'oddio la partita e chiude la partita 2 a 1 all'ultimo istante sull'ultimo turno cavolo ragazzi cavolo ragazzi veramente difficili da contenere questi catcher avrebbe potuto schierare meglio sul perfect defense si il perfect defense l'ha giocato malissimo gli è costato la partita se non avesse messo vicino al catcher chiave non sarebbe riuscito l'avversario a spingerlo dove serviva si non avrebbe avuto più chance di 1 turner beh comunque non giocata malissimo da parte di wield sicuramente un livello un po' più alto da parte di martin e anche una discreta fortuna nelle mancate removal vero vero e e qua guarda che intanto c'alla si becca un mvp e anche maror vager quindi per wolving sicuramente l'avventura finisce qui ma intanto ha un goal skillato mentre invece per quanto riguarda c'alla lo vedremo la prossima partita con qualche abilità in più ma si è stato un interessante match qui allo stadio node wars allowed tanto guardate la differenza tra armor breaks 23 armor breaks da parte dei necromanti che sei armor breaks da parte dei dakanda è vergognoso che non ci sia neanche una morte dal lato dei vd è vero è vero guardate la percentuale di ingiuri 91% di ingiuri evitate è quasi quasi incredibile mediamente un 50 60% è considerato la media siamo al 91% dove sta allora aspetta finito le armor roll c'è l'ingiuri ok aspetta che io stavo guardando il risultato ci siamo la statistica ball possession ah dice rolls ecco grazie era l'unico che non avevo visto ok team wolving out team dakanda forever ingiuri 91% cioè vuol dire che solo due di 23 hanno causato qualcosa di più di uno stun e uno era un capo lo ricordo benissimo quindi bene bene allora direi che con questo però oggi abbiamo chiuso sì cosa vogliamo fare vuoi guardare delle partite normaloidi o chiudiamo qua e ci preferiamo per domani ma no direi che è stata una partita interessante con un ultimo turno sorprendente possiamo anche salutare tutti e dirgli che domani vediamo verso le nove per l'altro interessante l'altro interessante ottavo era le 8 domani alle 8 quindi mi sa che iniziamo alle 7 e mezza domani d'accordo d'accordo magari controlleremo di nuovo l'orario però domani la partita mi ricordo che c'eravano detto che iniziava alle 8 quindi facevamo un pre partita alle 7 e mezza va bene va bene mi sono probabilmente confuso con i vari cambi di GMT ecc ci sono così tante partite interessanti in questo momento che sicuramente diciamo che il nostro lunedì sera salta a favore di quando c'è una partita importante o divertente o potenzialmente bella da seguire come quella di oggi facciamo una diretta quando possiamo tranquillamente esatto ricordatevi che se oggi vi è piaciuto come ha giocato Martin che è un ottimo giocatore domani userà gli Elfi Silvani che i Foggi che è il numero 1 NAF al mondo attuale quindi immaginate voi quale livello di gioco ci sarà non è da perdere quindi non mancate da Lanz e dallo Spe direi che partono i saluti e noi ci vediamo domani sera per un grande match alle 7 e mezza mi raccomando puntuali ciao a tutti ciao